Mamma tu sei una fan, quindi sei una EXO L Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Lolli e oggi farò la video reaction del nuovissimo video debutto della Savionix degli EXO Come potete vedere sono qui in presenza di mia mamma Susanna, ciao a tutti Ed è ufficialmente tornata sul mio canale per fare appunto la video reaction degli EXO Perché mamma tu sei una fan, quindi sei una EXO L In questo video sarà un po' speciale perché la Savionix degli EXO E ci sono De Kion, Siu Min e Chen E il tuo bias di speciale non c'è, no, a lei che ci sei una Ah già, vabbè Prima di iniziare però devo chiedervi un favore enorme Noi fan italiane stiamo cercando in tutti i modi di far venire gli EXO a desibirsi una volta in Italia Più precisamente a Milano Perciò mi raccomando correte tutti quanti su My Music Taste E mettete il make nell'evento Giù in descrizione lascerò tutti i link Grazie mille E nulla, questo posto di iniziare subitissimo con la video reaction La canzone si chiama Hey Mama ed è gli EXO Si, gli EXO Ok, il piccio Questo è Be Kion Be Kion Wow Ok Questo c'è Questo è quello che piace la Mari Ok, se è un piccio Shimi Mi fa ridere perché sono tanti duri, in realtà sono dei patatini Ah Mo Grazie mille Brè Nice weak Nice weak Oh Oh, Vekhiong e Re è il bug della battaglia! Vai Vekhiong! Tu devi sapere che Vekhiong e Chen sono i main vocals, quindi sono quelli che cantano a me e che cantano di più. Speriamo che si arriva così. Vero? E' bello che lo fanno già negli altri. Voglio andare a me e che cantano. Vero! 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 No! Se non so, in fronte di andare a me e che... Vero! Bicca non sa l'inglese Mi fatti la sorpresa che l'abbia detto con gli estima Bravo Wow Wow Ok Wow 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 Anche la croca tiene Wow 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 EXO CBX Hey mamma CBX SM Entertainment Ok è ovviamente concluso E non solo a te ma a me piace un casino Si è bello molto bello mi piace molto Allora la canzone è molto allegra Stile EXO perché stile EXO stile SM E mi piace un sacco Sono rimasta sorpresa del fatto che Bekyon rappi Mi immaginavo che qualcuno si sarebbe messo a repare Ma non pensavo Bekyon E mi è stata una piacevole sorpresa Soprattutto perché mi ha stupito perché non pensavo che lui sapesse un po' a repare Che mi dessero una parte a me per c'è stato il mostello Volevo sapere cosa dicesse perché questo è in a ma poi è peccato Però mi piace molto e mi è piaciuto questo cambiamento di posti di luoghi e poi mi sembrava che dentro ci fosse come l'intenzione di voler non dico una rivoluzione ma cambiare le cose E quindi c'erano questi fiori E per questo mi è piaciuto quella scena in cui è esploso tutto il mondo con il rosa Con il colore Bellissimo Mi ha fatto l'impressione di vederli vestiti ingestati Mi sembravano più grandi Comunque questo contrasto di mondi Soprattutto mi è piaciuto il fatto che il ritornello sia molto orecchiavile e ti entra in testa facilmente Infatti mi sono messa a canticchiara io mentre c'era Mi sarebbe piaciuto avere leggermente un po' più di rap Però vabbè alla fine non sono rapper loro Inoltre non sono rapper Quindi ci sta lo stesso ovviamente Ho notato anche che ci sono stati dei makeover durante il video Infatti infatti non so se voi ve ne siete accorti Ma vecchioni in alcune scene aveva i capelli rossi e in altre aveva i capelli marroni Quindi è stata una genialata Devo capire se in realtà quella è proprio una tinta vera e propria o se è stata una cosa tipo straio e roba del genere Invece Xiumi in verde non pensavo mi sarebbe piaciuto ma secondo me sta bene Poi non lo so Strano però ci sta Anche la fotografia è molto carina C'erano un sacco di salti, un sacco di passetti, di movimenti delle mani Mi è piaciuto un sacco Perciò io do un grandissimo thumbs up a questi ragazzi Mi è piaciuto un sacco questa subunit Ero un po' scettica in realtà all'inizio Però è stato piacevole vederli È stata piacevole questa canzone Mi piaciuto un sacco Adesso andremo a cercare il testo E a questo punto direi che la video reaction è ufficiale di conclusa no? Va bene, si, si, si Perciò voi mi raccomando scrivetemi in un commento qui sotto cosa ne pensate di questo video Cosa ne pensate del nostro video Se concordate con noi E non dimenticatevi anche di mettere un mi piace al video Di condividere il mio video Di iscrivervi al mio canale Invece noi ci vedremo al prossimo video Ciao 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 Ragazzi non dimenticatevi che io faccio parte di una kpop cover band Che si chiama One Ok One of a Time Perciò mi raccomando Correte tutti quanti a vedere tutte le nostre cover Lascerò il link giù in descrizione E non dimenticatevi anche di guardare tutte le mie video reaction Ed iscrivervi al mio canale Ciao ciao